Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Spazio Verticale questa puntata ve la giro da qui, sono alle azzorre come vi dicevo nella precedente è appena stato un tramonto pazzesco è una puntata speciale in quanto ci sarà un video che non si è mai visto da nessuna parte il video è di Stefano Ghisolfi la via è ultimato, 9 a più ad arco andiamo a vedere il video Ciao a tutti 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 Mi raccomando ragazzi continuate a seguirci mettete like al video se vi è piaciuto ho fatto uno sciacca senza volerlo e poi iscrivetevi al canale sicuramente e per finire vi ricordo che lunedì 19 sarà la festa del papà l'epic tv shop avrà una collezione speciale per questo avvenimento quindi date a dare un occhio al sito e ricordatevi di fare le compere prima di giovedì prima di giovedì perché così siete sicuri di avere la spedizione entro lunedì che è la festa del papà quindi noi ci vediamo venerdì ragazzi un saluto da qui domani purtroppo tornerò e ci vediamo la prossima puntata ciao a tutti ragazzi ciao